Pietro Foroni, oggi è una giornata di grande orgoglio e soddisfazione perché un'iniziativa nata dalla provincia di Lodi è diventata legge regionale. Si salvano gli esodati? Si salvano gli esodati lombardi, siamo l'unica regione a livello italiano che ha trovato questa soluzione. Diciamo che la gran parte degli esodati lombardi, per quello che potevamo intervenire noi, oggi è stata risolta. Persone che rischiavano, a causa delle normative Fornero, di andare in pensione fra 6-7 anni, invece siamo riusciti a salvarli e ad andare in pensione secondo le vecchie indicazioni. Persone che avrebbero rischiato di stare senza reddito per 6-7 anni perché nel 2010-2011, prima della normativa Fornero, erano andati in mobilità. Li abbiamo salvati, abbiamo ancora una volta superito alle mancanze di uno Stato centrale che crea problemi, non è capace poi di risolvere questi problemi. Tanta gioia, tanta commozione, quelli che parlano della politica, dovrebbero invece guardare quello che sta facendo la regione Lombardia. Tanto impegno, ripeto, abbiamo risolto la questione degli esodati. Immagino difficoltà, soprattutto economiche, ma non solo. Difficoltà economiche, difficoltà di tipo sociale per persone di 58-59 anni che pensavano di andare in pensione, invece perché i burocrati di Roma, il ministro Fornero non la sapeva, rischiavano di restare senza reddito e, ripeto, andare in pensione a 65-66 anni. Persone già espulse dal mondo del lavoro, quindi una crisi anche personale, di socialità, di rapporti, insomma. Tantissime difficoltà, la regione Lombardia ci ha messo una pezza. Come si trovano le risorse per arrivare a questo risultato? Si trovano con delle scelte, nel senso che delle priorità, abbiamo fatto appunto la priorità di salvare queste persone, anche attraverso i fondi sugli ammortizzatori sociali, con un impegno dell'assessore Garavaglia di sopperire nel caso non fossero a sufficienza. In realtà si tratta di risorse non ingenti, non tantissime risorse. Quello che mancava è mancata la volontà da parte di Roma di risolvere questo problema, ci abbiamo pensato noi. Oggi si è discusso una legge importante per i chilometri zero per quanto riguarda anche le mense scolastiche. Abbiamo detto che vogliamo che nelle nostre mense scolastiche, nella ristorazione pubblica, vi siano prodotti freschi, lavorati o semilavorati e provenienti dal territorio, cioè che seguono il principio della minor distanza. Quello che fanno negli altri paesi europei in Italia non si fa, in Lombardia non si faceva. Anche questo l'abbiamo fatto, una normativa innovativa, rivoluzionaria per quanto riguarda il panorama italiano e il paradosso è che l'abbiamo fatto attuando una direttiva comunitaria. Quindi non ci siamo inventati nulla, abbiamo studiato le normative, non pensiamo di risolvere il problema dell'agricoltura. Sappiamo però che portiamo i nostri prodotti sani, un'agricoltura certificata, sulle mense dei nostri bambini e sulle mense dei nostri bambini significa anche cultura, conoscenza del nostro prodotto, ma per i bambini e anche poi per i genitori, perché poi il discorso si trasmette anche nelle famiglie. Un gol importante, una partita decisiva e anche da questo punto di vista la Regione Lombardia c'è e si è distinta. Ecco, lei è un avvocato, allora servirà davvero anche il suo contributo in fase legale. La Basilicata ci aveva approvato, non c'è riuscita. Lombardia può riuscire in questa legge a farla rendere utilizzabile senza che la Corte Costituzionale ci metta lo zampino? Assolutamente sì, perché ripeto abbiamo trovato il modo di attuare una direttiva comunitaria. Non parliamo più di prodotto regionale o prodotto chilometro zero, ma di prodotto fresco, seguendo la minor distanza dal territorio e oggi c'è una normativa che è il codice degli appalti che permette di fare appalti seguendo un principio della qualificazione ambientale. In questo caso si tratta meno trasporto, meno inquinamento, più tutela, più facilità di approvvigionamento. Insomma, tutta una serie di requisiti che ci portano a credere, a essere assolutamente consapevoli, convinti che la normativa sia pienamente legittima a livello costituzionale e siamo pronti a sfidare anche qualche burocrat di Roma che così non crede. Forse è una soddisfazione maggiore ancora in più vedere che una cosa del genere viene votata da entrambe le parti, diventa bipartite. Sì, è una soddisfazione, una soddisfazione significa che su certi temi vi è una sensibilità lombarda comune e questo è molto importante, ci spinge ad andare avanti forti, dritti verso questa direzione.